Ave Quiriti, ben ritrovati in un nuovo video, ci sono delle novità dal fronte, andiamo subito nel settore del saliente di Uceretine, qua abbiamo delle piccole avanzate da parte dei russi, delle truppe russe, in direzione dell'autostrada Pokrovsk-Kostantinivka. Come sapete già ve l'ho detto in questi giorni, nelle ultime settimane, l'obiettivo con implicazioni operative più vicino, più alla portata per le truppe russe è interrompere questa autostrada e quindi interrompere la logistica verso Kostantinivka. Abbiamo una geolocalizzazione a nord di Novalexandrivka, i russi stanno cercando di spostarsi verso nord-ovest, verso appunto questo obiettivo. Andiamo poi più a ovest, più a sud-ovest, in direzione Novusilivka Persha. Qua abbiamo una geolocalizzazione di truppe russe ancora che stanno agendo nel centro di Novusilivka Persha, proprio nel cuore di questo villaggio che si trova in questa posizione. E' un villaggio poco più grosso di quelli che si trovano nelle vicinanze, in particolare in questa geolocalizzazione possiamo vedere dei soldati russi, un soldato russo che cattura dei soldati ucraini. Quindi ci sono in corso violenti scontri, presumibilmente nel cuore di Novusilivka Persha, vedremo se i russi saranno in grado, saranno capaci di prenderlo in breve tempo. Però sappiamo che ci sono combattimenti in corso. Ricordo, l'ho detto nel video di ieri, che ci sono delle fortificazioni, gli ucraini nel frattempo si sono preparati in questo periodo. Quindi ecco, qualora i russi dovessero prendere Novusilivka Persha, si troveranno in una situazione comunque non semplice. Perché tutta questa linea è preparata dagli ucraini e poi c'è pure la difesa naturale del fiume Vovcia. Questo fiume qua, come potete vedere, che scorre in verticale rispetto alla mappa. Andiamo poi più a sud, andiamo in direzione della autostrada, della strada T0532. Come potete vedere qua abbiamo una geolocalizzazione proprio molto vicino a questa strada. Abbiamo una geolocalizzazione, in particolare un video di un mezzo corazzato russo per la fanteria, che cerca di arrivare a tutta velocità nelle vicinanze di questa strada. L'attacco non va a buon fine, non vi faccio vedere perché è un contenuto forte, però i russi non sono riusciti a stabilirsi in questa zona. L'obiettivo, lo ricordiamo, per i russi è quello di cercare di tagliare questa strada, la 0532, che arriva verso Vuledar. I russi in passato, più di un anno fa, avevano tentato un attacco frontale da Pavlivka nel 2023, non erano riusciti a prendere Vuledar e quindi i russi stanno cercando di tagliare la principale, se non l'unica, arteria logistica che arriva da nord, da Kostantinivka, verso sud, verso Vuledar, appunto, per cercare appunto di stroncare la logistica di questo paese, di questo centro. I russi per ora non ci stanno riuscendo, stanno cercando di avvicinarsi su Kostantinivka, però le perdite sono veramente alte, quindi cosa intelligente da fare? I russi si stanno avvicinando a questa strada per i campi, cioè a sud di Kostantinivka e a nord-est di Vuledar. Finiti gli aggiornamenti dal fronte, ci tenevo a parlarvi degli F-16. Moltissimi di voi mi hanno chiesto nel corso delle settimane cosa io pensassi di questo velivolo, di questo sistema d'arma, di quello che potrebbe fare a favore delle forze armate ucraine, alcuni dicono che potrà cambiare le sorti del conflitto, altri dicono che no, non è vero. Cosa ne penso io? Allora, è un sistema d'arma, come molti altri, è un buon velivolo, è utilizzato ormai da decenni da moltissimi paesi. Ecco, se una persona ha in mente l'arma risolutiva del conflitto, si sbaglia, ovviamente. A meno che si parli di bomba atomica, proprio l'eccezione che conferma la regola, è difficile che un sistema d'arma, soprattutto se non presente in quantità astronomiche, possa cambiare le sorti di un conflitto, soprattutto di un conflitto come questo, un conflitto che per lo più si combatte sul campo, una guerra convenzionale, dove c'è un avversario, un nemico, che ha un'aeronautica, e qui vi faccio vedere, vi mostro quelli che sono alcuni dati, poi prendeteli con le pinze, perché Statista è un sito rispettabile, ma dubito fortemente che abbia i numeri esatti dal Cremlino, e via dicendo, stessa cosa per gli ucraini. Anche qualora arrivassero, si sta parlando di 60, 85, 90 velivoli F-16 per gli ucraini, secondo voi potranno cambiare tanto la situazione guardando questi numeri? Sicuramente potrebbero dare all'Ucraina la possibilità di guadagnare una superiorità aerea locale in determinate azioni, quindi in senso tattico, come fanno i russi, per esempio su Chasiviar abbiamo visto tanti video dei Sukhoi 25 russi che bombardavano le posizioni in concomitanza di attacchi da terra delle truppe corazzate, dei corazzati russi su Chasiviar, abbiamo un video in particolare ad aprile di quest'anno. Però detto questo, ribadisco, si parla, il comandante dell'aeronautica ucraina su Forbes ha detto che gli servono quattro squadroni, CSIS, un centro studi molto famoso, parla della possibilità del fatto che gli ucraini debbano avere, debbano raggiungere 12 squadroni, ogni squadrone su per giù ha 18 velivoli più o meno, 18-24 dipende dalla nazione, però 18 più o meno, cioè sì ok arriviamo a 216 velivoli, arriviamo a 200 velivoli, anche se gli ucraini avessero 200 velivoli non cambierebbe molto la situazione. E questo anche per un altro fatto molto importante, questa guerra più di altre magari non ha fatto scoprire ma sta consacrando uno spazio nuovo per i conflitti, e cioè il littorale aereo, cioè quello spazio che sta tra le teste dei soldati e i cieli blu, che per gli americani rappresentano lo spazio dove i velivoli pilotati da esseri umani, i classici velivoli come l'F-16 e via dicendo, volano e operano. E questo spazio da chi è occupato? Ovviamente avete capito, dai droni. E quel littorale, quel littorale aereo, questo spazio è saturo, è saturato, entrambi gli avversari possono saturarlo, possono essere presenti, impiegando relativamente poco. Questo nuovo spazio sta mettendo in discussione, anche da un punto di vista accademico, la dottrina americana, perché gli americani negli scorsi decenni hanno impostato la loro dottrina militare sulla supremazia aerea. Supremazia aerea è importantissima. E infatti adesso c'è qualche ripensamento. Perché devo investire milioni e milioni su un F-35, su un F-22, quando un mio possibile avversario con quei soldi si prende magari 10.000 droni e mi causa danni fotonici, danni pazzeschi. Questa cosa qua è una cosa che gli americani stanno considerando. Quindi andare a puntare sugli F-16 potrebbe essere sbagliato in diverse maniere. Gli F-16 potranno fare il loro lavoro, potranno dare sicuramente una mano alle truppe ucraine, soprattutto da un punto di vista tattico. I velivoli che hanno ora gli ucraini, anche quelli di origine sovietica, fanno quello che devono fare. Pensate agli attacchi in Crimea, sono stati fatti molti con dei velivoli da parte ucraina. Quindi gli ucraini quando possono utilizzano la loro aeronautica. Gli F-16 non è che sono diversi. E poi, ultima cosa, il fattore umano. Il fattore umano è importantissimo e molti non lo considerano. Tutti questi piloti, i piloti ucraini, che sono abituati a sistemi d'arma di origine sovietica e via dicendo, servirà a loro del tempo per fare una transizione di questo tipo. Ma mesi, se non anni, l'addestramento di un pilota è lungo. E non ci sono solo i piloti. Ci sono tutti gli specialisti a terra. Anche questa è una cosa che molte persone non considerano. Tutti questi specialisti devono andare a fare dei periodi, probabilmente da adesso saranno a Rammstein, in Germania, non lo so dove saranno. Però ci saranno, sicuramente avranno iniziato, saranno mesi che sono là. In generale, l'F-16 per gli ucraini può essere un'arma in più, sicuramente a livello tattico potrà dare una grande mano. Anche per tentare dei contrattacchi in determinate zone del fronte, guadagnare una superiorità locale, però non più di così. Almeno per ora. Finché si tratta di 80-90 velivoli, anche qualora dovessimo arrivare a 200, vi ricordo le cifre che vi ho fatto vedere prima. Cambierà poco. Non sono le armi famose, fantasmagoriche di cui si parlava. Pensate alla Germania. La Germania portò gli aerei a reazione quando gli alleati ancora non ne avevano visto mezzo. Pensate al Messerschmitt 262, al Comet. Alla fine cambiarono il corso del conflitto? No, perché c'era una disparità di mezzi. Disparità di mezzi che non è la stessa della seconda guerra mondiale, però per ora i russi stanno dimostrando di averne di più. Vedremo, vi ho detto, quello che è il mio punto di vista. Fatemi sapere cosa ne pensate. Per oggi è tutto, ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto dal vostro Davide.